Il Paradisi delle Signore Nove, Anticipazioni, Matteo si ritrova a collaborare con Marcello. Le anticipazioni sulle nuove puntate del Paradisi delle Signore Nove previste da settembre in poi su Rai 1 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno a casa di Matteo Portelli. Dopo aver lasciato il suo incarico per seguire la fidanzata Maria Puglisi a Parigi, il fratello di Marcello rimetterà piede a Milano per riprendere in mano le redini della sua vita. Matteo riprenderà la sua attività e si ritroverà a collaborare proprio con suo fratello Marcello, entrambi presenti nel team del grande magazzino milanese. Il ritorno a Milano di Matteo Portelli, Anticipazioni il Paradisi delle Signore Nove La nona stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1 sarà incentrata sul rientro in scena di Matteo Portelli, presente fin dalla prima puntata del nuovo capitolo. Per il personaggio interpretato da Danilo D'Agostino arriverà il momento di riaffacciarsi a Milano dopo un breve periodo di assenza, in cui aveva scelto di trasferirsi a Parigi per stare insieme alla sua amata Maria. La Pugliesi, dopo aver lasciato il suo incarico come stilista del grande magazzino milanese, scelse di accettare la proposta parigina che le venne fatta da Defoy e Matteo scelse di seguirla per essere al suo fianco e darle tutto il supporto necessario. Al momento, però, non si sa ancora se questo ritorno a Milano di Matteo si cela anche la crisi sentimentale con la sua fidanzata. Matteo si ritrova a collaborare col fratello Marcello nelle nuove puntate con il suo ritorno a Milano. Matteo verrà accolto nuovamente all'interno del team del grande magazzino milanese, dove aveva svolto il ruolo di contabile prima di dare le sue dimissioni a Vittorio Conti. Il giovane Portelli riprenderà quindi la sua attività e, in questa occasione, lavorerà a stretto contatto con suo fratello Marcello Barbieri. Dopo la partenza di Vittorio per Amsterdam, assieme alla sua amata Matilde, le redini del negozio sono passate nelle mani di Marcello e Roberto. Entrambi saranno alla guida del negozio in questa nona stagione e ciò permetterà a Barbieri di poter lavorare fianco a fianco anche con il fratello. La scelta di Vittorio Conti nella puntata finale dell'ottava stagione, dopo la denuncia per adulterio da parte di Tancredi nei confronti di Matilde, Vittorio scelse di lasciare Milano e il suo lavoro pur di proteggere l'incolumità della sua amata. Prima di andare via in gran segreto dalla città, grazie all'aiuto di Marta Guarnieri, Conti chiese ai suoi due storici collaboratori di portare avanti il suo operato affidandogli la sua creatura convinto del fatto che si sarebbero impegnati con tutte le loro forze per far sì che il paradiso continuasse a essere una realtà importante.